E' il momento di Benedetta Gaglioppa. Ciao Benedetta, benvenuta sull'alcolo del Freelance Camp. Benedetta Gaglioppa ha scelte sostenibili in ufficio anche quando non c'è qualcuno che ci guarda e ci giudica. Esatto. Bene, buon talk. Grazie. Ok, intanto vi ringrazio, ringrazio soprattutto Eva che vi ha preparati per questo momento. La ringrazio tantissimo perché appunto siamo verso la fine, quindi voi che siete qua state resistendo tantissimo. E' stata una mattina fantastica, abbiamo parlato di un sacco di aspetti che adoro e che come freelance ti devi occupare di tutto. Oggi torno sul mio, guardate appunto, vedete il titolo, cosa puoi fare anche e soprattutto quando non ti vedono gli altri. Scopriamo subito di che cosa si tratta. Due parole su di me perché è la prima volta che partecipo al Freelance Camp. Ho portato, diciamo, quattro parole, quattro temi che mi riguardano. L'ingegneria, sono ingegnere energetica, quindi mi occupo degli edifici e degli impianti. Sono passata attraverso l'industria per circa un anno, molto molto interessante. E lì ho potuto appunto proprio sperimentare in pratica l'efficienza energetica e i processi che sono molto utili poi anche nel piccolo, nella dimensione freelance. Gli edifici da 13 anni sono poi il mio argomento principale, gli edifici e soprattutto gli impianti. Quindi, come dire, dal momento di tutti i vari aspetti di sostenibilità, più o meno, diciamo, non fisici, qui torniamo a parlare un po' di tubi e termostati. Ecco, spero appunto di mantenere la vostra attenzione. Aggiungo appunto l'ultima parola che ho messo di recente sono le persone, perché appunto la tecnologia serve a poco se non la sappiamo usare bene. E quindi questo è diventato un po' il paradigma con cui io lavoro sia nei cantieri, appunto sugli edifici che perseguono certificazioni di sostenibilità, ma anche nei momenti di formazione e nella mia vita da freelance, ecco, come oggi. Ho lavorato dieci anni in azienda e da due anni sono libera professionista. Ormai queste tre parole di sostenibilità le conoscete a mena dito. Io oggi appunto voglio tornare a parlare di sostenibilità ambientale, nella grandissima speranza che questo mio momento sia per voi noioso, ovvero che sappiate tutto e che facciate già tutto bene. Cercherò di darvi alcuni spunti, principalmente sul tema energetico, però anche su altri aspetti che riguardano la sostenibilità. Secondo me alcune cose le conoscete, soprattutto perché, visto che siamo tutti o quasi tutti freelance, l'idea che usare bene l'edificio e gli impianti poi si rivalta nella bolletta vi rende sicuramente molto attenti. Ma confido appunto che ci siano degli spunti che possiamo portare a casa sull'energia e su altri aspetti di sostenibilità. Inizio con tre concetti principali. Il primo è che ci aiuta poi a pensare, quando non abbiamo la risposta pronta, a come fare a risparmiare energia. La faccio facile e poi dopo gli ingegneri hanno dietro un sacco di formule strane, ma questo è un principio semplice. L'energia è la potenza per il tempo, quindi io come faccio a risparmiare? Abbasso la potenza e riduco il tempo. Questo è l'esempio facile, ad esempio sull'illuminazione, posso accendere metà delle luci, sto riducendo la potenza. Posso spegnere, posso chiudere, posso abbassare, sto riducendo o il tempo o la potenza. E questo è proprio un primo principio base, piuttosto semplice, che però ci aiuta poi a prendere le decisioni da soli. Passo a un principio che allarga, allarga molto rispetto alla sostenibilità, è il principio dell'impatto ambientale su tutto il ciclo di vita. Quindi noi ragioniamo magari sul fatto che l'energia da fonte rinnovabile oggi qui a casa mia è gratuita, però appunto è stato fatto il pannello, da dove viene, dove andrà. E questo succede anche nelle scelte della vita quotidiana. Un esempio abbastanza riconosciuto, utilizzato, è quello di dire emette di più un barattolo di vetro o un barattolo di plastica. La risposta comune, ma soprattutto ai tecnici, agli ingegneri, è sempre dipende. Questo lo spiego utilizzando questa immagine, perché noi viviamo, ecco, noi siamo qua nella casa, no? Dove abbiamo la fase di utilizzo dei materiali. Possiamo considerare il computer piuttosto che il libro che ci è arrivato ieri e allora dobbiamo tornare indietro e pensare fin dall'inizio. Partiamo da questo disegno qua dietro che è il progetto. Quindi esiste l'ideazione di qualsiasi cosa, di qualsiasi progetto, di qualsiasi oggetto che noi abbiamo. C'è un'ideazione, un utilizzo di materie prime, che sono queste, rappresentate con degli alberi di carta. Poi dalle materie prime c'è una produzione e lì c'è un impiego di materiali, di energia. Poi questo oggetto viene imballato, uso gli imballi e così via. La macchina, le cose che noi abbiamo in casa, che utilizziamo, vengono trasportate. Vengono trasportate via camion, vengono trasportate via treno. Tutto questo ha di per sé un impatto ambientale. E poi vedete l'ultimo, dopo la fase di utilizzo, c'è la fase di dismissione. Quindi il fatto che io possa liberarmi di quello che non mi serve più, però in che modo posso renderlo un rifiuto e quindi fargli perdere tutto il suo valore e trasformarlo in un impatto ambientale, oppure riciclarlo, riutilizzarlo o, possiamo dire, anche dismetterlo nel modo più corretto, in modo tale che magari possa diventare input, nuovo uso per qualcun altro. Questo per darci un'idea del processo delle cose e del fatto che molto spesso la fase dove entriamo noi ha anche un impatto piccolo, un impatto relativo. Un ultimo, il terzo concetto che voglio darvi è questo, e cioè che i vari aspetti della sostenibilità che poi andiamo a vedere insieme, li possiamo approcciare su due fasi. Una, quella, come dire, della scelta, della costruzione, e l'altra è quella dell'utilizzo. Questo parallelo lo faccio anche rispetto agli edifici, quando io mi occupo dei miei edifici che perseguono la sostenibilità, possono essere o edifici nuovi, quindi mi occupo di tutta la fase di scelta, costruzione e messa a punto, oppure della fase di utilizzo quando parlo di edifici esistenti, quindi come vengono gestite certi aspetti della sostenibilità. Come freelance, chiaramente in una dimensione adatta a noi, sono entrambi le fasi che ci possono riguardare, nella scelta, nel cambio, nell'acquisto di qualcosa o nel come intendo utilizzare i miei strumenti, l'energia, l'acqua e così via. Ho individuato queste cinque aree che ci possono interessare, quindi non c'è solo la parte tecnica, la parte energia, ma avremo anche acqua, materiali, location e qualità ambientale, perché appunto sostenibilità non è solo risparmio, è qualcosa di più complesso, ma allo stesso tempo anche più interessante. Dopo queste slide un po' più bucoliche, vi devo far vedere dei numeri e dei grafici, perché sono ingegnera e quindi ho cercato di mettere un contorno rosa, sperando che questo possa allietare, ecco. No, la prima indicazione sull'energia è quella di conoscere, di sapere. E qui vi ho messo semplicemente un esempio di come, queste sono solo bollette, oltre a ricevere il dato, leggerlo e pagare, chiaramente, possiamo anche mantenere un monitoraggio, anche semplice, anche fatto a mano, su un foglio quadrettato, dei nostri consumi e dei nostri costi. Questo ci permette di conoscere meglio il nostro comportamento, il nostro consumo e questo potrebbe, nei casi chiaramente un po' più grandi, un po' più complessi, aiutarci anche a decidere come usare i nostri impianti. Questo, ad esempio, è un tipico grafico in cui ho una produzione, magari abbiamo un pannello fotovoltaico a casa e io so che viene, l'energia si produce in una giornata di sole mentre c'è il sole, no? Per cui io posso cercare di aumentare il consumo mentre ho l'energia disponibile in modo gratuito e questo è quello che succede con la curva azzurra in cui io riesco a consumare la parte di energia rinnovabile. Passiamo ora ai comportamenti che possiamo avere. Se ne parlava un pochino anche prima nella pausa a caffè, questo è un grande classico. Come vi dicevo, io spero che voi vi state annoiando e che dirò tutte cose scontate che vuol dire che questo passetto l'abbiamo consolidato, però ricordiamoci che un grado guadagnato, dove guadagnato è un grado più fresco in inverno e un grado più caldo nella fase di raffrescamento estivo ci può far risparmiare il 7-8% di riscaldamento. Ho scritto vestiamoci il giusto. Come vi dicevo, noi qui se paghiamo le nostre bollette mi sa che siamo proprio tentati a fare le cose fatte bene e questo è un principio generale. L'altra cosa che possiamo fare è qua vedete questi impianti che sono il mio, magari voi non li sopportate perché in ufficio ho trovato anche queste bocchette chiuse con lo scotch per il discomfort magari che provavano le persone, bisogna anche un po' conoscere questi impianti per riuscire a stare bene e risparmiare energia, quindi attraverso una regolazione della temperatura condivisa e anche della velocità. L'illuminazione conosciamo tutti ok, dobbiamo usare l'illuminazione a led si risparmia tantissimo e così via. Oggi voglio dire questa cosa occhio all'effetto rebound e cioè alla tentazione di lasciare tutto acceso o comunque di essere meno attenti per il semplice fatto che magari ho già installato l'illuminazione a led e ho il fotovoltaico attivo e quindi l'idea che questa energia costi meno sia già pagata magari rischia di farci essere meno attenti. Questo probabilmente nel nostro singolo ufficio non succede però bisogna stare attenti anche alla gestione e alla comunicazione. Se io ho tutti questi tasti e non so dove mettere le mani questa cosa inizia a mandarmi in confusione e rischio di accendere e lasciare accesi un sacco di luci o impianti ulteriori quindi una buona etichettatura è qualcosa di utile questo lo dico lo accenno già subito anche se ne parliamo dopo magari non ci riguarda nel nostro ufficio singolo e a casa però provate a pensare a quando dobbiamo andare a cercare la sede di un evento ad esempio e capire come funziona la sala il suggerimento è domandate anche come funziona il riscaldamento e il raffrescamento per poter cambiare l'aria le luci se riesco a usarne meno ecco per cui anche in quel modo si riesce a conoscere meglio come gestire gli impianti appunto che stiamo utilizzando e lo dirò anche dopo anche a condividere questo approccio alla sostenibilità mostrando una nostra attenzione questo è un caso di un negozio e è il tema delle porte aperte di nuovo noi probabilmente le teniamo chiuse ma questa immagine è sempre molto indicativa è una immagine di una termografia quindi una foto che fa emergere il dato di temperatura quindi l'azzurro è la temperatura più fredda e la parte più con colori caldi arancione giallo sono temperature più calde questo è un negozio fotografato fatto con la termografia d'inverno facendo la differenza tra quando ci sono le porte aperte e le porte chiuse quindi il tema della dispersione è molto molto importante passiamo al secondo tema che è quello dell'acqua la solfa come dire di chiudere i rubinetti ormai penso che la sappiamo a memoria io il primo punto che voglio però darvi è sempre quello di stare attenti al dato alla consapevolezza e al dato di consumo appunto perché le perdite invisibili dell'impianto possono arrivare 80 litri al giorno nella zona in cui poi noi dopo paghiamo il costo della bolletta dell'acqua quindi tenere d'occhio quel dato negli anni perché le bollette dell'acqua non sono frequenti come quella dell'energia quindi è un tema un pochino più complesso però sempre è un tema a cui far attenzione ok abbiamo ho tolto la slide in cui diciamo di chiudere i rubinetti perché diamo per scontato che li chiudiamo abbiamo una casa vecchia nuova impianti vecchi impianti nuovi che flusso abbiamo sui nostri rubinetti intanto qua vi ho messo come possiamo fare a scoprirlo alto basso flusso possiamo vedere quant'acqua esce in un minuto se siamo intorno ai 10 litri il consumo è piuttosto alto e in molti casi basta inserire dei filtri anche non eccessivi in cui esce proprio il filo d'acqua ma riusciamo anche a ridurre fino al 50% il consumo dell'acqua dai nostri appunto dispositivi sanitari e anche nel caso delle cassette delle cassette WC è possibile allora installarle a doppio flusso quindi si può scegliere nel caso di nuovi edifici oppure ho visto anche inserire bottiglie d'acqua piene nella cassetta per ridurre il volume questo è un escamotage diciamo un po' più artigianale ma funziona soprattutto nelle cassette quelle esterne chiaramente dico subito perché la bottiglietta di plastica che aiuta la sostenibilità e non magari un mattone perché il mattone si sgretola e poi potrebbe rovinare l'impianto mentre la bottiglietta di plastica rimane così com'è questo proprio per pura indicazione passiamo al tema dei materiali materiali di cui appunto abbiamo un po' sentito parlare già all'inizio della mattinata con Letizia adesso facciamo un piccolo ripasso diciamo la prima cosa è la parte di gestione dei rifiuti la raccolta differenziata sta migliorando e sta aumentando in tutta Italia con differenze tra nord e sud ma tendenzialmente riusciamo a barcamenarci un aspetto interessante per chi vuole migliorare questo aspetto potrebbe essere un waste stream analysis cioè l'analisi dei rifiuti ovvero sapere quanto produco e darmi magari un obiettivo di riduzione qui mi è saltato qualcosa ma è questa la slide giusta perché posso darmi questo obiettivo di riduzione perché anche sull'utilizzo di materiali e anche come freelance possiamo tenere d'occhio monitorare l'utilizzo che ne facciamo e poi darci degli obiettivi questo lo trovate scritto in inglese perché era un cliente che perseguiva una certificazione di sostenibilità americana chiamata LEED e come vedete in questo piano vengono gestite sia gli acquisti come prodotti di consumo e come prodotti durable quindi durabili mobili e così via e le lampade e poi anche la gestione dei rifiuti per cui io riesco a capire il dato quanto sto consumando quanto sto acquistando che tipo di materiali sto acquistando e darmi anche degli obiettivi progressivi misurabili magari di riduzione dell'impatto qui ho fatto una raccolta di tutti i vari certificati sono tanti è un tema piuttosto complesso diciamo perché non è scontato dire ok compro materiale certificato però è interessante avvicinarsi al tema di comprare carta da foreste gestite in modo responsabile comprare carta con una percentuale di riciclato dichiarata e controllata piuttosto che utilizzare prodotti per le pulizie che abbiano un minor impatto ambientale e in quel caso aggiungo usarne il meno possibile quanto basta perché secondo me soprattutto tra freelance c'è un potenziale importante anche nell'uso consapevole dei materiali quindi usare solo quello che serve in ultima analisi appunto come anticipato oggi anche da Letizia il tema che e come si collega comunque all'impatto ambientale che ho citato all'inizio c'è il fatto che i materiali quando per noi diventano rifiuto quindi qualcosa che non ci serve più oggettivamente possiamo dargli una nuova vita che sembra lo slogan della sostenibilità ma è proprio vero soprattutto magari sentendo anche le difficoltà che ci sono sia nel nostro paese nella nostra zona e anche in altri paesi perché ci sono alcune raccolte ridistribuzioni più locali e altre anche internazionali quindi io qui vi ho messo qualche spunto di quelli che forse non conosciamo che è la raccolta degli occhiali usati che mi è sempre sembrato una cosa troppo personale e così via ma effettivamente ci sono alcuni centri che lo fanno una raccolta di vestiti che è locale io sono in Trentino e che recuperano riciclano i vestiti questo è invece una raccolta questa in verde di una grande marchio di vestiti che fa una proprio un programma di raccolta di vestiti usati e poi magari raccoglie io ho citato qui il banco building perché raccoglie gli oggetti quindi potrebbe anche essere utile per noi la raccolta di computer e dispositivi elettronici anche ho trovato su LinkedIn anche alcune iniziative di redistribuzione verso le scuole piuttosto che persone che devono fare corsi online e così via e l'ultimo il banco dell'energia che è un'iniziativa molto interessante che ho conosciuto di recente avvicinandomi al tema della povertà energetica e che permette appunto di donare cose di energia a persone che non se lo possono permettere e in questo esce anche un po' la parte sociale della sostenibilità che mi interessa molto passo alla categoria successiva che è la scelta del sito questa è una cosa che va fuori dalle nostre mura tra virgolette noi probabilmente abbiamo già scelto dove lavoriamo o magari siamo a casa in ufficio in co-working e così via se c'è la possibilità di scegliere un sito con che criteri lo posso scegliere criteri possibilmente di sostenibilità che poi di solito aiutano anche il nostro business primo tra tutti ad esempio il tema dei trasporti per cui io devo magari capisco se è possibile raggiungere questo posto con i mezzi pubblici oppure se ci sono servizi vicini per cui io riesco a muovermi a piedi e fare anche un po' di pausa ristoratrice ecco recuperando anche l'intervento precedente oppure come vi dicevo prima quando vado a utilizzare una sala che non conosco anche il fatto di interessarci degli aspetti di gestione dell'energia degli impianti della sostenibilità magari anche chiedere se ci sono delle policy da prendere da usare e ecco l'ideale sarebbe come dire utilizzare questi come criteri principali anche per scegliere una sede rispetto a un'altra questo magari non ci cambia la vita dall'oggi al domani ma ci permette anche di condividere e far passare un messaggio per cui ci interessa che la sostenibilità sia valorizzata anche rispetto all'organizzazione da cui andiamo a chiedere magari la sala in affitto per un evento da ultimo come area la parte di qualità ambientale interna perché come dicevo all'inizio appunto io mi occupo di energia ma la soluzione non è spegnere per consumare meno ma è l'idea di avere un servizio quindi un comfort minimo il più possibile piacevole che possa essere un comfort ambientale interno per l'aria ad esempio quindi gestire ricambi d'aria che siano fatti naturalmente con l'apertura delle finestre piuttosto che invece con un impianto di ventilazione meccanica magari avere una buona vista e una buona gestione dell'illuminazione esterna perché e gestire l'illuminazione artificiale con quella naturale quindi da una parte cercare di usare l'illuminazione naturale il più possibile anche per ridurre i consumi energetici ma evitare l'abbagliamento ad esempio poter utilizzare degli strumenti che aiutino a monitorare la qualità ambientale interna ad esempio un sensore di CO2 che ci possa avvisare quando l'anidride carbonica è troppo elevata e ci consiglia di aprire la finestra se magari ci ritroviamo distratti dopo un'ora magari di lavoro molto concentrato e iniziamo ad avere mal di testa e non ce ne rendiamo conto oppure controllare l'umidità nel caso di situazioni un po' più delicate quindi capire come si comportano le nostre stanze e in ultimo anche il tema delle pulizie dei nostri ambienti appunto sto pensando in questo caso più magari in grande su co-working o su edifici in cui gli orari delle pulizie possono essere organizzati e quindi avere una cura anche rispetto a questa fase dei temi di sostenibilità quindi dell'utilizzo di prodotti che non emettano composti organici volatili che poi sono nocivi per la nostra respirazione ma anche gestire l'organizzazione delle pulizie come orari per poter ridurre ad esempio gli orari di apertura degli edifici dove abitiamo chiudo lanciando un'ultima categoria ovvero collegandomi anche al nostro lavoro da freelance il titolo era cosa possiamo fare anche se non riusciamo a farlo vedere a nessuno quelle che vi ho raccontato sono pratiche che fanno bene a noi oltre all'ambiente però appunto sono importanti se rispecchiano anche i nostri valori e poi queste piccole pratiche anche più tecniche anche di scelte più piccole possono anche essere inserite in un ambito di comunicazione sostenibile e di rispetto dei propri valori sul tema chiaramente di comunicazione di valori e così via lascio a chi è professionista in questo però questo può essere comunque anche una parte pratica di come noi lavoriamo e che ci può interessare comunicare agli altri ho messo come ultima slide questa frase che dice anche la sostenibilità ha bisogno della nostra cura e della nostra manutenzione è una frase abbastanza romantica e per questo motivo in sfondo trovate un filtro sporco degli impianti d'aria e questo è all'interno di un fan coil lo vedete poco perché se no era veramente brutto è un interno del mobiletto di riscaldamento e raffrescamento che avete di solito negli uffici e queste cose se non vengono pulite se non viene fatta manutenzione poi appunto consumano di più emettono un'aria che è decisamente sporca e quindi mi piaceva come metafora rispetto al fatto che questo è un altro di quei temi in cui è importante averne una gestione anche piuttosto semplice ma comunque averla in mente e portarla avanti io ho terminato non ho visto benissimo i tempi spero di essere stata nei tempi e vi ringrazio sei stata puntualissima Benedetta grazie grazie volevo sottolineare in particolare una cosa che hai detto verso la fine del comunicare sia quando compriamo qualcosa mostrarci interessate come è stata fatta al suo ciclo di vita e comunicare questo interesse facendo capire che si tratta di uno dei nostri criteri di scelta e poi anche comunicare e parlare delle nostre scelte in tema di sostenibilità leggevo poco tempo fa una di un'indagine che mostra come che mostrava come negli Stati Uniti la maggioranza delle persone si dichiara attenta ai principi di sostenibilità ma è convinta che la maggioranza delle persone non lo sia è convinta di far parte di una minoranza ecco questo mi sembra paradossale effettivamente fanno molto più rumore quelli che sbraitano contro ah che tragedia adesso che le nostre case dovranno diventare energeticamente efficienti e invece poi siamo molti di più e molte di più che siamo ben contenti che ci siano insomma dei processi in atto per rendere più sostenibili i nostri modi di muoverci di abitare e di lavorare quindi provo del tutto quello che hai detto sul dichiarare che questi sono i nostri criteri di scelta e anche raccontarli esatto grazie Alessandra di questo magari faccio un brevissimo una brevissima risposta nel senso che questo chiaramente non vuole essere un gancio per andare a quello che poi diventa greenwashing perché anche questo può essere un rischio chiaramente qua ci sono 8000 temi di cui potremmo parlare non ne apriamo un altro però io ho voluto parlare anche di cose concrete proprio per dire la sostenibilità può essere anche questo cioè il piccolo che io faccio e poi comunicare quello che è il mio obiettivo e io credo che piano piano potrebbe sensibilizzare cioè l'esempio di dire vado ad affittare una sala e se la 10 persone su 20 mi chiedono come gestisco gli impianti e dopo un po' magari ci penso veramente a farlo sapere per bene ecco quindi questo il fatto che sia concreto e dopo che sia comunicato ma sì sono d'accordo poi oltretutto più manifestiamo in maniera esplicita queste cose più magari chi fa politica e chi ci amministra capisce che questo è un criterio su cui noi decidiamo anche per chi votare e per chi non votare quindi i nostri cambiamenti poi si spera che generino anche dei cambiamenti sistemici più ampi grazie di nuovo davvero grazie a voi grazie a tutti